C'è un rammarico nella tua carriera? Con la testa di ora, quando nel 2014, che era il Mondiale, che avevo la possibilità di andare al Bayern Monaco, c'era Neuer, però avevo 20 anni e c'era Guardiola lì, probabilmente con la testa che oggi sarei andato. Difficile. In Conference ci sono stato nella partita più importante. No, vabbè no, l'Europeo è stato vinto. Il dopo, la mancata qualificazione mondiale. Grazie a tutti.